Mi pretesti se quell'uomo mi interessasse? Forse è come dice. È un po' troppo geloso lei. Ma crede davvero di essere il solo uomo che possa interessare una donna? Frida. Tre per Napoli. No, no, qui ci separiamo. Andiamo ad Amalfi, lì ci imbarcheremo per capo. Questa è una buona idea. Tre per Amalfi. Capitano. Allora, due per Amalfi e uno per Napoli. Proprio così, sarà meglio. Mi permette? Resterò poco, non un giorno di più. Saremo subito a Napoli. La rivedrò? Può darsi. E non dimentichi che mi ha promesso una serenata napoletana. Arrivederci allora. Arrivederci presto. Se non entriamo in cantiere dubito che usciremo di qui. Credevo che ti fossi dato da fare per accelerare le riparazioni. Potevi farlo tu. Prima di ultimare le riparazioni la nave affonderà. Ma via, insomma, si può sapere che diavolo ti sta accadendo? Ma niente, non me la sento di aspettare tanto tempo. Quanti ci farei tu i lavori? Io vado in albergo e non tornerò a bordo che a cose finite. Dove ti mandiamo il bagaglio? In un hotel. Andrò all'hotel Partenope. Il signore mi fa delle domande un po' troppo confidenziali. Mi dispiace, ma non posso dirglielo. Peccato. Dispiace anche a me. Potete tenermi questa somma nella cassa forza? Certo, siamo qui per servirla. È una bruna e bella come una madonna.